8 giugno 1916, nasce a Salò il regista Luigi Comencini. Maestro della commedia all'italiana, Comencini ha lavorato con tutti i grandi attori italiani, Sordi, Totò, Gasman, Manfredi, Mastroianni, Mangano. Nel 1953 arriva il grande successo con Pane, Amore e Fantasia, con De Sica e la Lollo Brigida, l'inizio di una lunghissima carriera. E' arrivato dopo Baiocchi? Baiocchi? Che mare c'era io, sono arrivato, vestitavano come domande e seminavano. Ma io ti ho obbedito subito, dile la verità. Sì, ma io ho obbedito, però continuavi a ingiuriarla. Ma io l'ingiuriamo perché quella ingiuriava me. La senti, brutta, Sandarello, qui ci va a do muro, forza! Fra i suoi film più noti, La donna della domenica, La ragazza di Bube e per la tv il celebre Tinocchio. Come avete fatto a sapere chi è lui? Oh, attenti, mi fate male! Comencini muore nel 2007. Grazie! Grazie!